Ci provo in tre minuti. Allora, l'argomento è sicuramente molto importante e io che sono nella Commissione elettorale insieme alla consigliera Monica Montella abbiamo attivato una interlocuzione con la Commissione per la soluzione di questo tipo di problemi. Io vorrei iniziare a dire subito alcune cose. I punti segnalati in parte non sono esattamente corretti perché attivarsi per le istituzioni di un bando non è esattamente così. Sul sito di Roma Capitale è indicato che tutte le persone si possono iscrivere all'albo degli scrutatori o all'albo dei presidenti per gli scrutatori dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno e per i presidenti dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno. Si informano degli elenchi. Qual è il problema principale degli elenchi? È che una volta che le persone effettuano l'iscrizione devono comunicare la cancellazione per non essere richiamati nuovamente nelle estrazioni che vengono fatte o dal Comune di Roma per quanto riguarda gli scrutatori o dalla Corte d'Appello per quanto riguarda i presidenti. Noi in una commissione elettorale che abbiamo fatto già nel 2016 e poi la risposta ci è arrivata nel gennaio 2017 avevamo chiesto di mandare una lettera a tutte le persone iscritte nell'albo sia degli scrutatori sia dei presidenti e avevamo chiesto che qualora non rispondevano a questa lettera li avremmo cancellati. La risposta che è in un verbale di una commissione elettorale del 13 di gennaio del 2017 è stata quella che si fa presente che sono state eseguite approfondite verifiche delle quali è emerso che le norme di riferimento non consentono modalità di cancellazione per rinuncia diversa dall'espressione di specifica volontà in tal senso dall'elettore iscritto. Questo fa sì che anche nella commissione elettorale che abbiamo svolto nella giornata di ieri abbiamo discusso anche di questo tema e siamo arrivati alla conclusione che l'assessore Marsano farà una direttiva agli uffici nella quale chiederemo di dare ampia pubblicità alla cancellazione dalle liste degli scrutatori e dei presidenti perché se le liste sono pulite e non ci sono tante liste di persone che magari si sono iscritte vent'anni fa perché andavano all'università e sono famiglia e il lavoro non hanno più interesse di fare questo lavoro dunque quando gli arriva la nomina non ci vanno e noi abbiamo un problema. Nel momento in cui noi dovessimo arrivare ad avere una lista pulita è ovvio che avremo meno problemi per quanto riguarda con le surroghe per cui c'è un impegno da parte dell'assessore Marsano di dare una direttiva agli uffici per dare ampia pubblicità alla cancellazione in modo tale che le persone che non vogliono essere chiamate e vanno a controllare nella lista che pubblichiamo che sono nell'elenco possono mandare alla comunicazione e così puliamo le liste e già noi risolviamo una parte dei problemi. Poi nella mozione si dice prevedere per le elezioni municipali di dare l'opportunità alle persone di mettersi nelle liste per la surroga. In realtà le liste sono fatte una volta all'anno in quel periodo, non possono essere modificate per cui devono essere fatte soltanto in quel momento. Anche quando nel punto si dice che nel momento in cui si aprono i seggi e mancano dei presidenti di seggio o mancano degli scrutatori la sindaca può nominare dei dipendenti di Roma Capitale che vengono estratti precedentemente. Qui si chiede che anche i dirigenti possano andare a fare questo ruolo. Riteniamo che forse non sia opportuno questa cosa perché un dirigente che magari deve firmare un atto molto importante non so, prima abbiamo parlato del Ponte dell'Osa, ma andarlo a fare una presidenza di una commissione di un seggio elettorale quando ha dei documenti importantissimi da dover firmare forse non lo riteniamo esattamente opportuno. Invece il punto 4 è un punto molto importante, quello che è stato sollevato dalla mozione che viene presentata adesso ovvero c'è un grosso malcontento da parte dei dipendenti di Roma Capitale che nel momento in cui vengono nominati per le surroche di coloro che non si presentano ai seggi elettorali ritengono la formazione che è stata fatta fino adesso non adeguata perché viene prevista una formazione di 10 ore online. Ieri proprio nella discussione che abbiamo avuto durante la commissione abbiamo evidenziato per l'ennesima volta questo tipo di problema e abbiamo ottenuto che l'assessore Marzano nella direttiva che farà agli uffici indicherà di aggiungere delle ore d'aula per le persone perché su questo punto specifico è vero ed è importante le persone devono essere formate adeguatamente anche perché è un ruolo di responsabilità alcune si sentono preoccupate per cui è giusto che abbiano una formazione adeguata e si sta andando in questa direzione. Pertanto diciamo che, ecco, dico solo un'ultima cosa noi abbiamo ritenuto importante per quanto riguarda l'estrazione degli scrutatori che è un compito che riguarda proprio la commissione elettorale di Roma Capitale abbiamo messo dei paletti a questa estrazione, vengono fatti assorti ma chiediamo che i due terzi siano di persone che hanno fino a un massimo di 30 anni, l'esclusione delle persone oltre 70 anni ma è anche una norma di legge e la vicinanza della persona che viene estratta al seggio elettorale al quale deve andare a lavorare. Dunque, su questo tema si sta facendo un lavoro si sta cercando di risolvere quelle problematiche che in passato ci sono state riteniamo che per alcuni punti non esattamente corretti che sono state indicate in questa mozione e per il fatto che comunque stiamo risolvendo nella direzione giusta questi tipi di problema voteremo negativamente a questa mozione. Grazie.